salve lox il prodo fernando chi vi parla oggi è 23 maggio 2019 il 23 di solito è un numero che porta bene e in effetti quest'anno è partita molto bene con le tante interviste del prodo fernando i tanti eventi e le tante manifestazioni in giro per l'italia allora la novità prossima è lunedì 27 maggio presso il cinema augustus multisale di velletri ci sarà la proiezione nuova del mio film partendo da venezia versione 2 che ho diciamo proiettato per la prima volta circa due anni fa in piazza cesare ottaviano augusto durante l'estate veliterna ma il grosso della situazione sarà a settembre prossimo il 28 settembre ci sarà la prima edizione del premio città di velletri a personaggi del cinema di varie tipologie quindi ci saranno due eventi collegati uno al teatro artemisio di velletri e l'altro successivo da benito al bosco il ristorante famosissimo di velletri allora vi aspetto tutti a queste occasioni partiamo da lunedì 27 al multisala di velletri e a tutti voi ciao ciao Grazie a tutti.